La protezione civile ha concesso al comune di Sapri i 30.000 euro richiesti per la messa in sicurezza della statale 18 nel tratto in cui l'11 febbraio scorso un masso è scivolato giù dal costone roccioso che sovrasta la strada. Da allora la nazionale è interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia con gravi disagi per le popolazioni locali. Il percorso alternativo allunga di molto i tempi. Lunedì prossimo presso la casa comunale si terrà una riunione di verifica. In quella sede sarà fatto il punto sugli interventi da eseguire e si procederà alla consegna dei lavori di sommorgenza ad una ditta specializzata che è stata già individuata. Se le condizioni meteo lo consentiranno e se i rocciatori non troveranno particolari situazioni di pericolo gli interventi saranno ultimati nel giro di pochi giorni. È stato già accertato che sulla montagna di Pietra alcuni massi andrebbero rimossi perché in bilico. Però c'è bisogno che i rocciatori effettuino un'altra ispezione per meglio comprendere lo stato in cui versa quell'aria rocciosa al ridosso della strada dalla quale si è distaccato il masso. Tra gli interventi che dovranno eseguire anche la rimozione del macigno che ha invaso la statale e la riparazione della rete paramassi distrutta dalla grande pietra durante la sua scivolata verso la strada. Se non ci fosse stato il parapetto il macigno sarebbe finito in mare e nessuno se ne sarebbe accorto. Episodi del genere accadono spesso lungo tutta la litoranea. Ormai la gente da queste parti per evitare che l'importante strada di collegamento venga chiusa si prende la briga di buttare sul costone roccioso a picco sul mare i massi che finiscono sulla strada. Questo però è possibile solo per le pietre di piccole dimensioni. Di fronte ai quintali di pietra bisogna necessariamente arrendersi e attendere i lunghi tempi burocratici per la loro rimozione. Intanto automobilisti e pedoni continuano a mettere a rischio la propria vita. È evidente che lungo tutta la Stata E18 che unisce Sapri a Maratea bisogna intervenire in maniera incisiva e definitiva.